Buongiorno a tutti e grazie per questa introduzione e spero potrete vedere dietro di me quello che è, ecco anche con fotografia, io sono Jacopo Bencini, mi presento e lavoro come advisor di politiche per una associazione italiana che in molti chiamano organizzazione ma mi piace rimarcare associazione italiana che si chiama Italian Climate Network, la nostra è una rete di esperti che si occupano di clima, da tanti punti di vista, di clima e di sostenibilità ambientale e tra questi esperti, scherzando si diceva siamo un po' un'associazione di climatologi, mi piace dire ecco che siamo tanti tipi di nerd in un certo senso, io per esempio seguo processi politici a livello internazionale, ci affidiamo a chi nella nostra associazione invece fa parte del mondo della scienza. Italian Climate Network segue i negoziati internazionali sul clima dal 2011 dalla sua fondazione e facciamo divulgazione in Italia nelle scuole, nelle università e in eventi come quello di oggi cui ho avuto il piacere di essere invitato, tra l'altro rappresentandosi, parlava prima anche di partecipazione maschile, femminile, le varie cose, un'associazione nella quale sono tra i pochissimi uomini e oggi però vi sono capitato io. Ho l'onore di inaugurare questa mattinata anche dopo la bella giornata di ieri che avete avuto, dopo la bella serata che avete trascorso, parlando appunto di futuri sospesi da un punto di vista di quelle che sono le prospettive di responsabilità, che è una parola che ho già sentito stamani e in termini di rischio anche di quelli che sono gli investimenti attuali, futuri, nel settore ISG, quindi nel settore della sostenibilità in termini più ampi. Posso già andare con le slide, vero? Benissimo. Quello del cambiamento climatico, vedete, inizio veramente come se fossimo a parlarne per la prima volta, perché è sempre utile partire da dieci passi indietro per arrivare con una camminata sana al quinto, sesto, settimo passo avanti. Quello del cambiamento climatico è un problema senza confini, che quindi necessariamente non può essere affrontato da un punto di vista italiano o solo europeo, ma è un problema globale e questo riguarda anche come si muove la finanza globale, in questo senso. Questa mappa che vedete dietro è molto famosa, l'avrete vista mille volte, è una mappa animata, alla quale adesso non darò il via, che ci fa vedere come negli ultimi cento anni sia radicalmente cambiata la faccia del nostro pianeta. È cambiata in termini di alterazioni epocali, mai viste, delle temperature medie sul pianeta Terra. Questo è importante anche per capire quando leggiamo sui giornali, quando ci informiamo rispetto agli obiettivi dell'Accordo di Parigi, gli obiettivi delle varie coop che ogni anno si susseguono, si parla di temperature medie, quindi rimanere entro un grado e mezzo di crescita della temperatura da qui alla fine del secolo, da qui al 2100. Questi sono gli obiettivi che la governance attuale a livello internazionale si dà. 2100, mi guardo intorno, saremo probabilmente quasi tutti morti qui dentro. Ma si parla di politiche di così lunga gittata che necessitano questo tipo di pianificazione proprio per, come dicevamo, dare una sostenibilità a quelle che sono le generazioni che seguono le nostre. Perché il paradosso è che in questo settore sappiamo già come va a finire. Sappiamo già come va a finire secondo diversi scenari di azione. Quando vi parlo di aumenti medi della temperatura, vi parlo di temperatura ma vi parlo anche di conseguenze che in realtà tutti già osserviamo e con questo non voglio, guardate, creare un momento in cui sembra che tutto si debba per forza collegare al clima. Però se pensiamo a cambiamenti repentini nella temperatura, sappiamo di cosa parliamo. Se pensiamo a cambiamenti globali, a mutazioni sostenute per periodi anche lunghi, non solamente meteorologici, il meteo è ciò che accade da oggi a tre giorni, il clima è ciò che accade da oggi a 30 anni. Così forse dividiamo un po' il campo. Ecco che allora i cambiamenti climatici ci appaiono immediatamente come un qualcosa che anche in Italia stiamo già vivendo, anche se spesso non ce ne accorgiamo perché abbiamo la fortuna di avere le risorse finanziarie e tecnologiche per accorgercene meno in termini di danni di altri paesi nel mondo. È stato collegato il tema del cambiamento climatico alle emissioni di anidride carbonica, di metano, di gas serra, di gas cosiddetti clima alteranti nell'atmosfera, derivanti dal modo in cui produciamo, derivanti dal modo in cui l'output finale oggetto, l'output finale energia viene prodotto attraverso tutta la filiera che parte dal finanziamento tramite però cosa? Tramite l'utilizzo appunto di combustibili fossili. Combustibili che emettono nell'atmosfera delle sostanze che riscaldano il pianeta. Non sto oggi a farvi una lezione sull'effetto serra, non ne abbiamo neanche il tempo, però considerate che quel picco che vedete dietro di me rappresenta come le emissioni di CO2 nell'atmosfera che ci sarebbero in natura sono schizzate, soprattutto dal secondo dopoguerra in poi, ma a partire dalla prima rivoluzione industriale, in maniera assolutamente fuori controllo e fuori da quelle che sarebbero le medie naturali. Vedete come questo grafico rappresenta le anomalie delle temperature collegate in questo senso alla presenza dei gas serra. I gas serra che noi, passatemi il termine, come vi ho detto non sono uno scienziato quindi me lo posso permettere, spariamo nell'atmosfera, rimangono per decenni nell'atmosfera e impediscono al calore della terra di uscire dalla nostra atmosfera dopo che è arrivato dal sole e si è riflettuto sul pianeta. Questo è l'effetto serra, è questo rimbalzo di calore che rimane sul nostro pianeta. Queste anomalie di temperatura che sono originate appunto da questo fenomeno le vediamo molto bene anche in Italia. Avrete visto molte volte queste strisce, le mettono anche su molti libri più o meno divulgativi come copertina, ma rappresentano le anomalie di temperatura rispetto all'anno precedente e rispetto alla media storica e potete vedere come nel corso delle vostre vite sostanzialmente anche per l'Italia lo scenario sia stato quasi tutto rosso o bordeaux. Rosso o bordeaux vuol dire una forte anomalia in aumento di calore rispetto al passato e allora spesso con i ragazzi e le ragazze delle scuole quando andiamo a fare formazione diciamo ragazzi se sentite dire al Tg che questo è l'anno più caldo registrato nella vostra vita ci sentiamo di dirci che sarà l'anno più caldo probabilmente l'anno più freddo dei vostri prossimi anni perché è un fenomeno che sta continuando ad aumentare al quale dobbiamo in un certo senso adattarci ma anche combatterlo per far sì che non esca completamente dai binari. Qui vediamo lo stesso grafico in un'altra rappresentazione che forse ci dà ancora meglio l'idea anche per l'Italia di cosa sta avvenendo. Si danno appunto degli obiettivi globali come dicevo sotto l'accordo di Parigi è stato detto che questo aumento medio della temperatura è da contenere entro un grado e e mezzo massimo due gradi sono cifre sparate a caso dalla politica queste no sono cifre indicate dalla scienza dal panel IPCC che raduna i principali scienziati del mondo su questo tema e ormai c'è un livello di condivisione scientifica di quello che stiamo dicendo del 97 per cento nella comunità scientifica globale quindi non è più una questione di parte come 20 o 30 anni fa e questo limite dei due gradi è un limite oltre il quale rovineremmo così tanto il pianeta da renderlo invivibile per noi per gli animali per le piante per come le abbiamo conosciuti finora. Vado in velocità con degli esempi che poi ci portano meglio sul tema del rischio e degli investimenti questi sono due esempi assurdi che ho dietro di me ma che è utile raccontare ogni volta per chi di voi ha visto il film Anotes Arc del 2016 che purtroppo non è girato molto in Italia si racconta la storia del presidente Anote presidente di Kiribati che è uno staterello insulare nel lontano Pacifico che nel 2016 ha comprato chilometri e chilometri quadrati da un altro stato chilometri di terreno dalle isole Fiji a 3.000 chilometri di distanza perché ha comprato questi terreni perché secondo le proiezioni di innalzamento del livello dei mari che è un'altra conseguenza del riscaldamento globale ovviamente sa già che gran parte della sua popolazione soprattutto quella che vive più vicino alla costa non avrà più un posto dove stare e allora il governo di Kiribati ha preferito comprare letteralmente un pezzo di un altro stato secondo un accordo internazionale a 3.000 chilometri dove via via cominceranno da qui al 2050 a spostare pezzi della loro popolazione persone case piccole aziende se vogliamo piccole imprese locali ecco che sanno che finiranno sott'acqua non è un qualcosa che ci raccontano sui giornali o che dice Greta in qualche comizio è uno stato che sulla base di dati scientifici compra un pezzo di un altro stato impatti in intensità e frequenza li vediamo di più nei paesi più vulnerabili che la storia la geografia e non il caso l'economia hanno voluto che hanno voluto che siano anche quelli già più fragili economicamente nel nostro mondo occidentale ricco dove tendenzialmente troviamo soluzioni ai problemi attraverso gli investimenti della tecnologia cominciamo anche noi ad accorgerci di questi effetti e in questa vecchia slide insomma facevamo vedere il lago di Folsom che molti conosceranno per le canzoni di Johnny Cash ma basta vedere cosa succede con l'Adige colpo in Italia negli ultimi anni ecco quindi che si va a guardare al futuro previsioni da che parte stiamo andando in uno scenario di totale in azione linea rossa questa temperatura va molto oltre quei due gradi si va in un mondo sconosciuto scientificamente anche in termini di previsioni con tutti gli impatti che già stiamo embrionalmente vedendo e che condizioneranno sicuramente la nostra vita le economie anzi della vita dei nostri figli altrimenti con un buon ragionamento di policy e di organizzazione anche degli investimenti a livello internazionale che quindi poi accaduto arriva fino al locale si può ragionare di una traiettoria che non cancella il problema perché il cambiamento climatico ormai non si può cancellare ma lo mitiga ecco quindi che si parla di mitigazione e di adattamento mitigazione vuol dire ridurre le emissioni vuol dire investire in quei settori meno clima alteranti che riducono le emissioni e adattamento vuol dire fornire sufficiente finanza a livello internazionale in quei progetti in Italia abbiamo il MOSE come progetto di adattamento e mi rendo conto che non sia mai il miglior esempio per come è andata però a livello internazionale sono programmi e progetti assolutamente necessari per adattarsi alle catastrofi che già ci sono scrivete su google mozambico e le prime dieci notizie che vi verranno fuori sono di tornare in ondazioni che hanno devastato il paese quanta percentuale del pil di un paese è giusto giusto da un punto di vista di giustizia internazionale rispetto alle nostre responsabilità che quel paese spenda in ricostruzione ogni anno c'è un dibattito enorme non ne parliamo stamani su quelli che sono gli schemi assicurativi internazionali sui fondi che in termini proprio di fund inglesi in termini fondi internazionali multilaterali che sono messi a disposizione per questi paesi più fragili e che guardate mancano pochi anni ma a un certo punto dovranno servire anche a noi in quel senso noi frequentiamo questo tipo di sale come associazione questa è la sede dell'onu sul clima bonn in germania ci saremo anche tra meno di due mesi per i negoziati intermedi è uno dei pochi settori nei quali il pubblico tenta ancora di regolare a livello internazionale di dare obiettivi per pubblico intendo quel grande condominio che sono le nazioni unite con 193 condomini molto litigiosi molto diversi dove a differenza dei nostri condomini delle nostre case uno vale uno che tu sia lo stato di tonga o che tu sia gli stati uniti d'america tuttavia in questo grande condominio si vedono anche differenze di emissioni queste sono le emissioni attuali di gas serra il problema del cambiamento climatico è stato creato dall'occidente ma adesso è anche molto lo vedete dal pallino rosso dietro di me affare della cina e delle economie emergenti e questo porta chiaramente a dei dibattiti che però influenzano mi viene da dire positivamente guardando agli ultimi anni non abbastanza ma positivamente la finanza globale siamo lontanissimi dagli obiettivi di mobilitazione finanziaria che servirebbero ad aggredire questo problema anche perché c'è appunto questa diatriba tra chi ha emesso nell'aria tra chi ha creato il problema finora e chi vede quella linea rossa salire 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 che sono le emissioni cinesi che continuano a considerarsi paesi in via di sviluppo e che continuano nei negoziati internazionali a porsi alla guida del gruppo dei paesi sotto sviluppati che invece chiedono compensazioni non è il tema di stamani ma insomma mi faceva piacere citarlo in un mondo che dentro le nazioni unite vi sembrerà assurdo è ancora diviso in due tra ricchi e poveri secondo un criterio del 1992 dove i paesi ricchi sono quelli verdi e blu nella mappa quindi l'ex occidente o ecd e l'ex blocco socialista che nel 92 si dava per scontato sarebbe riuscito a velocemente riorganizzare la propria economia e tutto il resto del mondo i gialli nella mappa sono i poveri in quella mappa molti di voi conosceranno la geografia quanto è meglio di me troviamo la cina troviamo l'india troviamo tutti i paesi opec del golfo arabico troviamo il sud africa troviamo il brasile troviamo singapore ditemi se questi sono i paesi poveri eppure questo è il foro in cui si negozia a livello internazionale verso una transizione da pianificare una transizione pianificabile spesso con una battuta diciamo è la prima volta che c'è da fare una rivoluzione e abbiamo già il piano le rivoluzioni si fanno a braccio storicamente stavolta c'è un piano la scienza ci dice cosa fare per fortuna c'è già chi si sta allineando a questo tipo di direzione di investimenti purtroppo non è ancora abbastanza considerate che a livello globale come finanza per il clima nel 2009 l'allora ministra dell'ambiente della germania angela merkel lanciò l'idea di mobilitare 100 miliardi di dollari all'anno in finanza per il clima oggi sappiamo che ne servirebbero 3 mila miliardi all'anno per rispondere a tutte le esigenze di cui abbiamo parlato finora siamo arrivati a 75 76 miliardi mobilitati dal 2009 ad oggi quindi siamo lontani anni luce il costo delle energie rinnovabili che sono la grande soluzione a gran parte del problema al netto del fatto che c'è il litio c'è lo smaltimento qualsiasi tipo di produzione d'energia comporterà sempre un rifiuto però non cadiamo nella trappola di confondere le emissioni di co2 con quello che può essere lo smaltimento di un litio o ancora meglio di un pannello fotovoltaico o di un impianto eolico da questo punto di vista siamo in campionati diversi su questo non ci dobbiamo sbagliare le energie rinnovabili ci possono portare in quella direzione vi ho portato stamani delle schede velocemente da l'ultimo report dell'agenzia internazionale per l'energia che ci dicono che per rimanere entro un grado e mezzo di obiettivo dove devono andare i soldi che penso sia una domanda che interessa a tutti sicuramente in una riduzione drastica clamorosa non condivisa dai paesi opec per ovvi motivi del dell'uso del petrolio nell'economia verso un aumento del fotovoltaico e generazione di elettricità da eolico al 2050 verso un aumento di questa capacità verso un cambiamento radicale del modo in cui ci muoviamo sul pianeta qui stiamo parlando ora delle economie ricche parlo di mobilità ovviamente parlo di transizione verso automobili non clima alteranti con tutte le complessità che questa transizione genererà però va affrontata non si può polarizzare il dibattito su sì o no e basta a stato attuale delle cose bisogna diminuire l'intensità di energia per punto di pil la famosa energy intensity per gdp per ogni punto di pil che che noi creiamo tramite il quale cresciamo facciamo sì che richieda meno energia di quanto ne serviva per il punto di pil precedente tramite l'efficientamento energetico l'italia ha un suo piano che si chiama pniec piano nazionale integrato energie e clima che adesso dobbiamo rivedere peraltro entro il 30 giugno 2023 è in corso un lavoro importante da parte del governo il pniec pensate risale al ministro costa cinque stelle di qualche anno fa è passato dal governo draghi non è mai stato aggiornato adesso il nuovo governo meloni lo deve aggiornare e depositare entro giugno alla commissione europea in questo senso speriamo in obiettivi ambiziosi anche perché il nostro piano nazionale non rispondeva agli obiettivi europei era meno ambizioso perché più vecchio quindi in questo senso bisogna ecco allineare anche la direzione della finanza che andiamo a proporre come investire e dove andare un po di spazio per l'ottimismo per fortuna c'è sono in chiusura del mio tempo ma voglio lasciarvi queste pillole io sono per natura un ottimista come associazione siamo tendenzialmente degli ottimisti l'IPCC cioè il grande gruppo degli scienziati si parla di 600 scienziati che rivedono qualcosa come 14.000 paper scientifici per report di questo stiamo parlando ci dice che nello scenario migliore in cui rimaniamo entro un grado e mezzo di temperatura che è uno dei tanti 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 scenari che abbiamo in quello migliore lì dentro c'è ancora il 50 per cento di possibilità di farcela non il 50 per cento complessivamente il 50 per cento in quel piccolo scenario che però esiste e allora se la scienza ci dà una mappa se in questo senso il mondo di chi ci dice dove guardare dove mettere risorse investimenti anche di capitale politico non solo finanziario allora forse una speranza c'è da questo punto di vista si stanno muovendo molte cose si stanno stanno nascendo tanti fondi bisogna stare molto attenti però e questo è stato anche il richiamo del segretario generale delle nazioni unite all'ultima copp di sharm el sheik in egitto dove per vostra informazione dilettevole nessuno di noi ha fatto il bagno ha visto pesci perché si è lavorato come pazzi è stata una copp pazzesca ecco il segretario gutterre ci ha detto va bene mobilitare il capitale privato mobilitare la finanza ma con regole a livello internazionale trasparenti chiare dove nell'isg non ci sia greenwashing dove non sia possibile che in portafogli azionari in portafogli finanziari che si dichiarano green ci siano ancora come succede per oltre l'ottanta per cento delle aziende che hanno aderito a questi piani nelle nazioni unite investimenti per esempio in carbone andiamo con ordine no carbone no petrolio no gas nella transizione purtroppo ancora anche a livello internazionale si continua ecco a vivere un po di queste dinamiche questo è il mondo in cui navigare facciamo sì che i prossimi anni visto che ogni linea cambia colore sulla base dell'anno precedente di una media anche per chi verrà dopo di noi per chi c'è già dopo di noi visto che noi alla fine della storia non ci saremo che queste linee siano sempre meno bordo e tendenzialmente più gialline per cercare di ricomporre un po questa situazione e questo lo si fa anche attraverso il vostro lavoro e per questo come Italian Climate Network abbiamo veramente gradito questo invito e speriamo di poter continuare a collaborare con voi grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti